musica metteremo qua io teco le domande sotto mano e le proveremo, no? si oppure anche con l'iphone sotto mano visto che il tema di iphone fa sempre il suo effetto fa sempre ma è un bacca è un po' il mio telefono è caldo come REC No Rec, ciao 5 Allora, buon giorno Chiari amici di Made in Vino Siamo qua per rispondere ad alcune domande Che i nostri telespettatori Vaffanculo I nostri telespettatori Buongiorno amici di Made in Vino Buongiorno Questo primo video vuole essere un'introduzione Al mondo Made in Vino Quindi elencarvi banalmente quelli che sono i vantaggi Che sussistono Acquistando e abbonandosi Al nostro servizio Cristian, prego La prima domanda che ci rivolgono i nostri amici di Made in Vino I nostri bonazzi è perché Mi abbono a Made in Vino Questa è la domanda Qui siamo noi che spieghiamo e basta Perché mi abbono a Made in Vino No, diciamo Ciao amici di Made in Vino Made in Vino Ok, ricominciamo adesso Questo è buono Ciao amici di Made in Vino Siamo qua per darvi ancora informazioni Per la comprensione di Made in Vino Perché mi abbono a Made in Vino L'abbiamo fatta prima No, va bene Va bene Ciao amici di Made in Vino Siamo qui per rispondere alle numerose domande Arrivate dai nostri amici Per darvi risposte Per indemri palli ai nostri amici How come può fareined in Vino Beh però è proprio come